pastore fuori per Poggi prova ad attaccare il canestro preferisce passarla per un ottimo Molinaro migliata dai 6 metri e 75 subito dall'altra parte faenza Vico prova ad entrare fino in fondo Vico bella palla per Aromando però non attacca il suo avversario lo fa adesso con un ottimo movimento 33-19 Voltolini, gran movimento di Voltolini hanno 3-4 giocatori di esperienza gli altri sono tutti giovani non hanno molti punti nelle mani si è visto quest'oggi al Palacattani Poggi, bella gioco a 2 ma che palla scarico per pastore prova la tripla pastore lei è arrabbiatissimo per questa gestione di palla non ha gestito bene Faenza ma fare un applauso anche alla difesa perché pastore obiettivamente era impiccato come si suol dire Vico prova la tripla la magata la magata di Vico pallone che viene giocato da Faenza siamo già dall'altra parte del campo 6-25 alla fine bella biglia per Poggi passa ancora Bandini quintetto ovviamente molto giovane ma ci sta Bandini che canestro di Bandini Grazie.